Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Max, per chi non mi conoscesse, siamo qui per parlare di gossip. Come al solito, lo facciamo sempre, lo facciamo tutti i giorni, perché succede sempre qualcosa lì all'interno di quella benedetta casa. Ad esempio, come il fatto che si accendono gli animi subito dopo la puntata, al centro del dibattito c'è stato un pesante scontro tra Edoardo Dona Maria e Antonella Fiordelisi, coppia sulla quale più volte sono cadute delle chiacchiere, anzi, in alcune occasioni ci sono stati proprio dei veri e propri insulti, ed il motivo quale è stato? Colpa di Mikol che sembrava aver chiuso la sua storia con Edoardo Tavassi, tra l'altro mai sbocciata per davvero. E dire che le basi sembravano esserci, perché una settimana fa Edo e le sorelle di Clizia avevano dormito insieme, usciti dalla casa si erano appartati nel van in giardino, zitti, zitti, quatti, quatti, lontano da tutto e da tutti, sì, da tutti, da tutti i concorrenti, però stavano solo loro. Così avevano trascorso la serata al di sotto delle coperte, dove ancora meglio non si vede nulla, coprendosi fino sopra al viso. Nulla era sfuggito alle attente telecamere del grande fratello, che avevano ripreso ogni loro movimento e fatto ascoltare quel che si erano detti, cioè stiamo dormendo insieme. Mi piaci, ma che cavolo devo fare? Eh, sei stata così ingenua a venire qua dentro. Aveva detto così Edoardo alla coinquilina. Eh, stiamo letteralmente non dormendo. Scusami papà, scusami mamma, scusatemi tutti. Edoardo Tavassi aveva pensato un attimino al futuro, una volta finita l'esperienza nella casa, dicendo sicuramente fuori ti voglio nella mia vita perché tu sei una certezza. E anche Micol era apparsa piuttosto certa, anche se riteneva che in casa il tempo sia percepito un attimino un po' diverso, no? E anche io, dice, sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere. Ma invece una cosa certa è il rapporto burrascoso con Antonella che durante la puntata ha scoperto che l'ex fidanzata di Edoardo Donamaria in una clip l'ha definita limitata mentalmente, cioè che non ci arriva e non l'ha presa per niente bene, e te credo. Ha detto, ha detto una cosa grave, no 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 no, ma è una bruttissima persona. Ha spiegato così Edoardo che ha provato così a far ragionare la sua fidanzata. E peccato però che la reazione di Antonella Fiordelisi non sia stata proprio delle migliori. Eh, se la pensi così ti lascio e non torno indietro. È finita qui e non stiamo più insieme, eh? Ah no no, la finiamo qua, eh. Dopo l'attacco che ho subito mi sei calato. Ha sottolineato così Antonella che per dire che questa volta insomma è abbastanza apparsa spazientita, ma sul serio, non stava scherzando. Eh sì, il modo di Edoardo Donamaria non gli è piaciuto per niente. Comunque su tutto questo che vi ho detto potete lasciare i vostri commenti qui sotto. Nel frattempo è stato un piacere, noi ci sentiremo e vedremo in un prossimo video. Vi aspetto come sempre su Pausa Caffè.